Mi chiamo Burgo Patrizia e sono una lavoratrice dipendente. Ho deciso di candidarmi perché come cittadina ho potuto constatare che la nostra città è stata lasciata a se stessa. Quindi ho deciso di mettermi al servizio della cittadinanza con la lista civica Pinarolo Bellissima. Lista composta da cittadini e cittadini, lavoratori e lavoratrici che hanno la mia stessa visione. Penso che uno dei temi importanti sia salvaguardare la sicurezza e su questo punto impegnerò tutto il mio tempo futuro. Siamo consapevoli che c'è molto da fare, che c'è bisogno di cambiamento e poi perché appoggio convintamente il programma di Pino Berti. Vi chiedo di sostenere la nostra lista civica Pinarolo Bellissima e di scrivere sulla scheda Burgo Bonin perché siamo convinti che possiamo fare la differenza. Sono Capitani Martino, sono nato a Baudenasca dove ho vissuto diversi anni. Sono ex commerciante, sono stato eletto due volte in consiglio comunale in un paese della zona. Vorrei fare due proposte. Visto i problemi del commercio vorrei proporre due mercati rionali, un mercato rionale al pomeriggio nelle frazioni. Seconda proposta, il nonno vigile di quartiere, di aree verdi e davanti a scuole. coordinate dai vigili urbani o l'associazione carabinieri in pensione. Per Pinarolo Bellissima puoi esprimere due candidature, un uomo e una donna, per me Capitani Frodi. Sono Maria Rita Cavallo, sono una biologa, lavoro da 40 anni presso l'ospedale Edoardo Agnelli di Pinarolo. Sono attualmente il primario del laboratorio analisi. Sono candidata con la lista di Pino Verti, Pinarolo Bellissima. Voglio portare il mio impegno affinché possiamo ritornare ad essere una Pinarolo davvero bellissima. Il mio impegno in questa candidatura è quello di portare servizi sanitari e socioassistenziali più vicini ai cittadini, più efficienti, perché fare 30 chilometri quando uno non sta bene è davvero difficile. Per questo io vi chiedo di votarmi e di votare Pinarolo Bellissima, perché col sindaco Pino Verti effettivamente riusciremo ad essere incisivi ed ottenere risorse per il nostro territorio, per la nostra sanità, per i nostri servizi sociali. Finalmente dobbiamo portare risorse sul nostro territorio ed essere di nuovo il comune capofila di un territorio che ha il diritto di avere una salute e ha il diritto di avere servizi sanitari e socioassistenziali di alta qualità.